Come posso raccogliere i dati del mio portafoglio immobiliare senza dover contattare ripetutamente diversi stakeholder e ricevere documenti incompatibili tra di loro? Nessun problema! Grazie ad un approccio pragmatico e all'adozione di un processo di raccolta automatica, gestire molteplici fonti e formati di dati è più facile di quanto credi. Tipki, tutto a portata di un click. Grazie a tutti!